A Verona giornata conclusiva del Tocatì, il Messico, il tema dell'edizione 2014 dei tradizionali giochi di strada. Giornata conclusiva del tradizionale Tocatì a Verona, quest'anno l'edizione dedicata al Messico, Gianni Manzo. Giochi e folklore messicano a Verona per la dodicesima edizione del Tocatì, il festival dei giochi di strada. Una volta a delegazione ha proposto le espressioni ludiche messicane che hanno affiancato quelle delle varie regioni italiane. 12 anni di storia raccontano che il gioco può avere anche una dimensione di festa, di incontro. Quest'anno in particolare abbiamo cercato di portare una tradizione ludica che della festa fa la sua vita, che è il Messico. Per cui è una città piena di giochi della tradizione messicana e giochi della tradizione italiana. Giochi semplici che stimolano curiosità nei bambini e nostalgia tra gli adulti. Come un bambino, sicuramente bisogna il proprio bambino dentro, bisogna buttarlo fuori ogni tanto. E io sono felice di farlo. A torso nudo in piazza i giocatori di Ulama de Cadera rimbalzi di palla solo con colpi d'anca. Con la trottola si giocava per strada, una vera competizione tra ragazzi, diverse modalità e tanti modelli. Sono molte forme di trottole, punte più allungate, più strette, trottole meno pesanti, più pesanti. Dopo uno si personalizza come vuoi. Grazie.